fin da piccola nuoto è stata la mia grande passione in carriera ho vinto 14 titoli europei io invece fin da piccola ho deciso di non fumare ho vinto anche cinque titoli mondiali io invece ho deciso di aderire a tutte le campagne di vaccinazione come quella contro il papilloma virus ea tutti gli screening come pap test e mammografia la mia vittoria più bella è stata essere la prima italiana a vincere un oro olimpico nel nuoto io invece sono tra le tante italiane che sempre più rispettano le regole di un corretto stile di vita in termini di alimentazione e movimento fisico la prevenzione una vittoria alla portata di tutte